La coppia del trono over si è separata di comune accordo e ad annunciarlo è stato il cavaliere sui social network. Non è durata più di qualche mese la storia tra Marcello Messina e Jasna Amodei. I due si sono conosciuti negli studi di uomini e donne lo scorso inverno, ma dopo una breve frequentazione hanno deciso di separarsi di comune accordo. A febbraio è stato il cavaliere ad annunciare la rottura con la dama in alcuni video che ha postato tra le sue storie di Instagram. Nessun accenno da parte dell'imprenditore a un suo possibile ritorno nel cast del dating show. Marcello e Jasna sono stati una delle coppie che hanno lasciato UND durante la stagione ancora in corso, altri due sono Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, fidanzati da poche settimane e per questo fuori dal cast. Il cavaliere è rientrato nel cast in autunno e quasi immediatamente ha notato nel parterre la dama. Tra i due è iniziata una frequentazione assidua ed esclusiva, nel senso che nessuno ha mai voluto lasciare il numero ad altre persone in quel periodo. A distanza di qualche mese dall'uscita mano nella mano dagli studi Helios, però, Marcello ha usato i social network per far sapere che la storia nata in tv è finita definitivamente. «Voglio fare chiarezza, io e Jasna non ci frequentiamo più», ha esordito l'uomo in un video che è apparso tra le sue storie di Instagram. «Marcello ci ha tenuto a spiegare che se il rapporto non va avanti, non è a causa di tradimenti o di altre mancanze di rispetto. Ci sono problematiche come l'incompatibilità caratteriale e i modi diversi di vivere la vita», ha aggiunto l'ex cavaliere. Marcello ha voluto chiarire che in questa rottura non ci sono né carnefici né vittime, anche perché quella di lasciarsi è stata una scelta presa di comune accordo con Jasna. Anche se la relazione non va avanti, tra i protagonisti del Tronover sembra essere rimasto un affetto che li porta a parlare bene l'uno dell'altro. Marcello, inoltre, su Instagram non ha fatto alcun accenno al suo futuro o a un suo possibile ritorno in studio per cercare un altro amore. Ciao, al prossimo video Super Gossip!